Economie dinamiche occupazionali. Il segretario generale dell'UGL Paolo Capone questa mattina ha riportato in occasione del quinto congresso provinciale UGL di Chieti Pescara i dati del report dell'economista sulmonese Aldo Ronci. 10.000 unità in meno per il 2022 è un dato che posiziona l'Abruzzo all'ultimo posto della graduatoria nazionale, il peggior risultato degli ultimi cinque anni, ma a quanto pare non così drammatico. I dati non sono incoraggianti ma ancora sono abbastanza stabili, le possibilità di crescita ci stanno. La vera preoccupazione è che nelle province di Pescara e di Chieti insistono gli insediamenti industriali più importanti per l'automotive, la preoccupazione vera risiede lì, quello che sarà dell'automobile soprattutto dal 2035 in poi è una prima fonte di preoccupazione, una seconda fonte di preoccupazione è il PIL invece che cala in Germania perché noi i livelli economici nazionali sono piuttosto buoni. C'è un tema che invece in Germania il PIL è in ribasso e noi siamo anche produttori di eccellenza non soltanto di automobili ma di componentistica. In questa zona in particolare su questo si è specializzata, quindi abbiamo delle preoccupazioni ma guardiamo al futuro con una certa speranza perché c'è comunque complessivamente un'economia che sta in ripresa, c'è più occupazione nel sistema paese, nell'Italia, c'è più occupazione buona, ci sono per la prima volta più occupazione stabile che non precaria, quindi insomma poter agganciare questo treno è possibile anche per l'Abruzzo. Le variazioni degli occupati sono state insoddisfacenti in tutti i settori, meno che nell'agricoltura un comparto che occorre valorizzare con più risorse e occasioni di sviluppo e se le dinamiche occupazionali si sono indebolite, alcuni dati mostrano una interessante vitalità della componente femminile. Le infrastrutture sono fondamentali anche per lo sviluppo industriale, spostare merci con facilità ovviamente che contribuisce a essere più attrattivo i siti produttivi abruzzesi ma soprattutto contribuisce a renderli anche più competitivi perché sul prezzo di un finestrino grava non soltanto la manodopera, non grava soltanto la materia prima ma grava pure la difficoltà di spostamento che c'è dal punto di produzione al punto di utilizzo. Grazie.